Grazie Michele, ciao a tutti. Rimarei sulla analogia musicale visto che Michele mi ha battezzato DJ. Quello che stiamo per fare sarebbe un after hour in termini tecnici. Abbiamo una serie di artisti qui pronti per suonare. La prima cosa che farai è aumentare il battito per minuti, BPM. Avete 100 secondi a testa, sono più o meno 3 minuti. Qualcuno di voi ha delle slide? Se volete usarle vi chiedo di usarne una al massimo, quindi sceglierne una. Buongiorno a tutti, Saverio Cuoghi, faccio da tanti anni il consulente e il formatore d'azienda. Il progetto che vi racconto velocissimamente è tratto dal mio ultimo album, come ed è come dicono i cantanti una cosa a cui tengo moltissimo. Ci tengo moltissimo perché ho avuto la possibilità di fare con questo progetto due cose che mi stavano nella pancia che era provare a trasferire quel po' di esperienza e competenza che ho maturato in questi 25 anni di lavoro soprattutto ai fianco delle piccole imprese, visto che ho quasi sempre lavorato qui nella nostra regione, e trasferire queste esperienze e competenze a ragazzi di 16 anni e dall'altro lato, visto che ho un figlio di 18, cercare di capire anche cosa accidenti succede dentro un'aula perché questa possibilità in realtà come genitori ci è negata. Quindi quando CNA, che è il promotore CNA Bologna, il promotore di questo progetto, mi ha chiesto di fare la progettazione didattica mi sono buttato sul percorso con grande entusiasmo. Il percorso è quello che vedete, siamo partiti in realtà ancora una volta, gli Aldini Valeriani trionfano alla grande, siamo partiti due anni fa con una sperimentazione qui agli Aldini Valeriani con un terzo anno e quest'anno in realtà abbiamo allargato il tiro del progetto a 10 scuole superiori di Bologna, della città metropolitana di Bologna. Quindi è un progetto che penso sia unico in Italia, che coinvolge 300 ragazzi, 300 ragazzi che volontariamente, prima Nibale diceva la volontarietà, volontariamente, poi qualcuno ha anche scelto volontariamente di smettere, ma volontariamente hanno scelto di affrontare questo percorso. È un percorso come vedete in tre anni, primo anno fondamentali, giocati molto però sul mettere le mani in pasta, secondo anno tantissime testimonianze, terzo anno tentativo di sviluppare delle idee di impresa. I temi sui quali lavoriamo fondamentalmente sono quelli, quindi business planning, quindi marketing ma anche costi perché anche quella parte è importante, gestione dei progetti e sottolineo molte sottolineature competenze dei ragazzi, quindi cerchiamo di lavorare sulle loro passioni, sulla loro creatività, sui loro talenti, cercare di capire cosa che non è facile, vi assicuro, almeno per me non lo è, cosa gli interessa e cosa gli piace. Due cose sui testimoni, abbiamo cercato di portare in aula persone molto diverse perché uno degli obiettivi oltre a quello dell'autoimprenditorialità che è, sono riuscito a dirlo anche, sono molto contento, è uno degli obiettivi anche lanciati dal commettente, l'obiettivo che ho aggiunto io era quello della consapevolezza, cioè volevo provare a raccontare ai ragazzi cosa c'è, cosa vedranno al di là del loro terzo anno, quinto anno in realtà di scuola. Quindi sono venuti imprenditori, soprattutto imprenditori giovani che ce la stanno facendo, stanno facendo una gran fatica per raccontargli come funziona, ho portato degli amministratori pubblici perché quello è un mondo completamente sconosciuto ai ragazzi e invece forse gli va fatto capire che non c'è il diavolo lì. Abbiamo provato dipendenti perché anche quello vuol dire un percorso che i ragazzi potranno fare. Chiudo raccontando due cose che mi hanno particolarmente colpito. La lezione più bella che ho fatto con i ragazzi è stata un momento in cui loro mi hanno spiegato qui agli Aldini e Valeriani come funziona Arduino e insieme abbiamo provato a fare il prezzo di un prodotto basato su Arduino. Quindi siamo partiti da una cosa sulla quale lavorano e io ho provato a dare il mio contributo in termini di costi diretti, indiretti, immagini di contribuzione e queste cose orrende. Altra cosa di grande soddisfazione al Minghietti, al liceo classico perché questo percorso l'abbiamo fatto anche all'interno di licei. All'inizio sia i genitori che i ragazzi non volevano fare lo stage che è previsto al termine del percorso per ogni anno del curriculum. Alla fine del percorso tutti i ragazzi hanno scelto volontariamente di fare lo stage. Quindi forse un po' di impresa, di consapevolezza su come sarà il mondo fuori lo si può portare anche al di là degli istituti tecnici. Grazie mille. Ah posso dire una cosa? Mi sono dimenticato. Il terzo anno non è ancora certo, quindi me lo sono in realtà dimenticato, vorremmo fare una cosa, vorremmo fare il fantacalcio delle scuole di Bologna, ovvero mischiare le competenze perché non solo ci sono differenze tra Bolzano e la Sicilia, prima si ricordava, ma ci sono differenze tra le Aldini, il classico, quelle di San Giovanni in Persiceto e quelle di San Lazzaro, quindi più o meno la distanza è la stessa. Vorremmo mettere le competenze dei ragazzi, quindi provando a fargli sviluppare anche il curriculum online e poi da loro si fanno le squadre così mischiamo un po' di tecnici, di intellettuali, di umanisti, di scientifici e così via. Scusate. Bene, un bel mix.